I colleghi d'Israele chiedono qualcosa sulle preparazioni fisiche, quindi ti dico solo la mia idea, la domanda del colleghi israeliano è riguardo alla preparazione fisica. La mia idea è una generale idea, la preparazione fisica è molto importante, per esempio nel club io treno con la preparazione fisica tre volte a settimana, nella squadra nazionale ogni giorno. Ma credo che in volleyball è un sport tecnico e tattico che la preparazione fisica non ha bisogno di prendere troppo tempo per la tattica e la tecnica. Tattico che non faccio togliere via troppo tempo alla pallavolo rispetto alla preparazione fisica. That's why, if you find, but you don't find, a physical preparator that makes your player jump 10, 12, 15 centimetri more, attack much much more stronger and so on, that would be great. Se trovassi un preparatore che vi fa salzare 10, 15 centimetri più eccetera eccetera, tiravolo forte sarebbe sicuramente utile. Ma questo non è possibile, quindi nel fine, per il mio preparatore fisico, mi chiedo di mantenere i miei giocatori in buona condizione, per farmi trainare 5, 6, 7 ore al giorno senza incontro. Questo è quello che mi chiedo, non chiedo di una grande performance, perché il problema di volleyball è già molto buona performance. è di training. You don't win a match, if you jump much more, if you attack much more stronger, ok, this is little bit, but you win if you play better volleyball. It's not like basketball, soccer, if you run more you have a lot of chances, or of course athletic bicycle like this. Grazie.